Quando tu perdi una partita come è stata persa Carrara male, sicuramente quella dopo dimostra anche un po' anche la pasta, no? E noi abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi. Però ti dico, io penso che la responsabilità, come la sento adesso, la sentivo a vent'anni proprio nello stesso modo. Perché comunque al di là che uno può avere 30, 35, 20 anni, 25, quando capita una partita dove perdi 4-0, perdi in malo modo, credimi che anche se hai 20 anni rosichi, quindi la responsabilità è sempre alta e l'abbiamo dimostrato domenica. Dal più giovane al più vecchio. No, al di là del rigore, che poi il rigore è un episodio, quindi non ci do tutto questo peso. La cosa importante, fondamentale domenica è stata, come hai detto te, non aver preso gol, che comunque non prendere gol porta sempre punti. E soprattutto è stata una prestazione importante di tutta la squadra, perché comunque si è vista una squadra equilibrata, una squadra che ha saputo anche gestire una partita che era una partita comunque anche sporca, perché pioveva, faceva freddo, c'era un campo pesante e quindi penso che dopo la sconfitta di Carrara sia stata una risposta veramente importante da parte di tutti. Una partita difficile. Come hai detto te, in questo momento la cosa fondamentale e importante è dare continuità ai risultati, perché è quello che comunque fa, alla lunga fa la differenza, la continuità nei risultati. Mi aspetto una partita domenica sicuramente bella, combattuta, difficile, perché giochiamo contro una squadra comunque che arriva da una vittoria all'ultimo minuto, quindi anche loro avranno entusiasmo, una squadra comunque forte, una squadra importante. Però penso che siano quelle le partite belle dove anche potersi misurare dopo la bella vittoria che abbiamo fatto domenica. Sicuramente sarà una partita vincente, combattuta e come abbiamo detto prima, noi vogliamo dare continuità ai risultati adesso.